ariete dovete mettere in conto un periodo contrastato e tumultuoso nel quale sono richieste energie che adesso scarseggiano cercate di non essere troppo aggressivi e generanti nei rapporti con chi vi circonda toro momento poco soddisfacente che sollecita la voglia di cambiare qualcosa che non funziona più nella vostra vita ma che vi vede trattenuti dal vostro temperamento cauto e tradizionalista incertezze in amore gemelli la luna nel segno oggi amplifica il buon umore e il desiderio di spensieratezza frequentazioni contatti collaborazioni e programmi per il futuro sono al centro dell'attenzione buone occasioni da non perdere cancro occhi puntati sull'amore siete in una fase espansiva della vostra storia di consolidamento mentre chi è solo può contare su incontri speciali un po irrequietti nelle questioni di lavoro ed economiche leone la luna amica oggi allieta la giornata attenuando la attuale tendenza all'insofferenza al nervosismo venere giove dissonanti consigliano un ripensamento una verifica nella sfera sentimentale vergine giornata un po sottotono per voi che forse passerà inosservata perché incastonata in un periodo positivo di grande forza personale siete inclini alle conquiste amorose e a vivere con più armonia interiore bilancia oggi le emozioni sono intense e relative a qualche incontro un po particolare che evoca ricordi è una fase di bella energia fisica e mentale che vi rinnova profondamente e vi orienta alla spensieratezza scorpione in questi giorni venere in transito nel segno offre spunti per amori romantici e ammorbidisce la vostra ruvidità il periodo è favorevole ma dovete porre attenzione alle illusioni agli inganni e anche alle questioni legali sagittario la luna oggi è opposta al segno e inquina l'andamento delle vostre emozioni l'umore è basso e nonostante tante sollecitazioni positive intorno a voi non riuscite a cogliere l'aspetto fortunato degli eventi un passaggio di breve durata capricorno un blocco nei vostri programmi e un po di stanchezza possono caratterizzare questo periodo che vi vede in bilico tra cose nuove e vecchie abitudini l'amore vi comporta e vi appaga acquario la luna amica oggi vi rende frizzanti e risveglia tutte le vostre sensazioni positive fortunati negli incontri e nelle attività che affrontate con audacia meglio porre attenzione alla sfera amorosa dove riversate la vostra impulsività pesci giornata un po spenta dal sapore evocativo nella quale tornate al passato seguendo tracce di sensazioni nascoste nell'intimo l'amore vi regala un ottimo momento di soddisfazioni occhio però alle storie parallele buone stelle